Ecco una lista completa di tutti i viaggi fatti da Seba nel 2017 Vedi tutte le miglia da lui collezionate Altro che punti di grifondoro, queste sono cose molto più utili della coppa di latta delle case Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video Sono Sebastiano Serafini e oggi volevo fare un viaggio review del 2017 Tutti i posti che ho visitato, i 5 posti che ho visitato Allora diciamo che li ho raggruppati in differenti gruppi Allora vi dirò le città italiane dove sono stato quest'anno Che sono Napoli, Genova, Roma, Verona due volte, Venezia quattro volte Pisa, Livorno, Firenze due volte, Trento Vabbè Trento e Milano non le ho messe perché comunque vabbè sono quelle un po' dove vivo Quindi non le ho proprio messe Poi secondo posto in Giappone sono stato a Tokyo, Kyoto, Osaka, Nara e Sapporo quest'anno E poi in Europa quest'anno ho fatto veramente un giro dell'Europa pazzesco Perché sono stato a Londra, Parigi due volte, a Nizza due volte, a Monaco due volte A Bruxelles, a Barcellona e anche ad Amsterdam A Berlino due volte, a Lipsia due volte Poi sono stato in America che sono stato a L.E. e Guam E come ultima meta ho messo YouTube che insomma è questo nuovo posto che sto visitando Ancora non ci sto capendo niente Comunque a me volevo fare un po' riassunto di tutti i viaggi che ho fatto Ho collezionato un sacco di media quest'anno Quindi sono un sacco contento che l'anno prossimo posso viaggiare gratis in qualche location esotica E ditemi quali di questi posti che ho visitato vi ha ispirato di più Ho condiviso un sacco di foto sul mio Instagram Se non lo seguite vi consiglio di seguirle in cui metto foto di tutte le location che un po' visito Anche quest'anno vi assicuro che ci saranno un sacco di viaggi in programma Quindi spero che mi seguiate su tutti i social Spero che continuate a seguirmi anche sul mio canale di YouTube E ci vediamo domani con un altro video Ciao ciao Un abbraccio da Sebastiano Serafini Un abbraccio da Sebastiano Serafini